E uccita Latino 52 Il magazine di balli latini più un cd con la migliore musica latina del momento Tutta in versione originale Salsa, merengue, reggaeton, baciata Latino 52 In edicola e nei negozi di dischi cd più rivista a 10,90 euro Anche online sul portale latinmusicstore.com e su iTunes